E' il presidente del canto Armando Pallandriu, interna giro della nuova centrale. Paolo Valdini da la sua, occhio può andare, ottimo dai fai, che è in casa mia! Cerca la profondità, confisce in bosta, andrà, giro, e su al gol! La gioca in mezzo, riceve bene Donadoni, può concludere, dappure incredibile per gol, Roberto Donadoni, che spettacolo! Grazie a tutti!